Anche perchè se vado io contro... Scusate, counter di Aurelion Lux Eh si Eh vabbè Lux è forte Perchè praticamente lo vuol chi ha a morte Ma non si ha perso Mamma mia, non è uno Guarda Anche io Gli ho messo la testa di Miss Fortune nel culo di Seraphim Manca B Wukong qua Ragazzi Wukong, andiamo su Wukong Una mano io Oh, da qua Di giro di là Oh mamma mia Mamma mia Non metto quelli fermi però dai Ho la special Ok, andiamo su Wukong Eh io ti ricordo che non avevo uno scuso No vabbè, ne ho due qua Facciamo queste, facciamo queste Non arrivo, ormai son qua Eh, tienila tu la botlane Dieti Faccio pure, fai roba Ormai son qua io Ah, guardato Vabbè ho duemila go Andiamo prima botlane Andiamo questa volta Comunque Ok Passo da dietro, passo da dietro Usalo adesso di me in casa Occhio Wukong Occhio Wukong Non ho la vuole Sai no, non posso più far nulla eh No, non ho la spazio 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 Penso potrei ammazzarla tipo Sento E' andato Drake Occhio Aurelion 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 Guarda dove sono C'ho Aurelion Arriva Aurelion Arrivo Manca anche il piole Arrivo, arrivo, arrivo No, no, no Lei che è a fare No, non riusciamo a fare un c***o di fight Chi è tutti tutti insieme Bellissimo RECK andiamo qua arrivo arrivo riusci eccolo tipo arrivo a miss oh oh ho il tp io vabbè mi sono fatto trampare non sapevo neanche se usare le spell tipo la la mmm trollato eh lo sa eh ma mi sono scusate c'è red da fare c'è red da fare arrivano raga devo tiffare eh? no 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 vabbè per far bar arrivo aurelie tu serio ma la mia dv blocca anche facciamo questo facciamo questo ma la mia dv blocca anche da pollo c'è miss fortune che ha dato il primo sangue a me per le ward e la zonia ok 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 va bene va bene va bene va bene c'è ok devo essere un po' toxic almeno se no ok 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 grazie grazie grazie